Di Benedetto, ecco ha votato, la Tuca, colleghi per favore però, non c'è bisogno di urlare così, Fitzgerald, Cesaro Antimo, chi altro non ha votato, mi pare che abbiano votato tutti, no, ecco Moscat, bene, dichiaro chiusa la votazione, 295 favorevoli, 36 contrari, la Camera approva, votazione dell'articolo 26, se non ci sono interventi lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Gigli. Pilozzi, Vecchio, Carbone, qualcun altro, bene, dichiaro chiusa la votazione. 303 favorevoli, 35 contrari, la Camera approva. Adesso chiediamo al relatore i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 27. All'articolo 27, Presidente, abbiamo lo 0.27.1.1 Crippa, invito al ritiro, parere contrario. Il 27.1 Costantino favorevole, poi qui abbiamo il 27.101 della Commissione, favorevole, poi abbiamo il 0.27.100.2 Sarti, che invito al ritiro, 27.100 della Commissione, favorevole, nuova formulazione. Poi, a questo punto, il 27.2 Sarti, e continuiamo normalmente. Quindi, andando avanti, abbiamo lo 0.27.3... No, mi dice...